Ciao a tutti ragazzi, siamo giocati insieme a Rose E insieme a... Siamo proprio Nico Cosa devo fare Rose? L'avremmo detto mille volte Iscrivere al canale Iscriversi Iscriversi Dopo arrivano a 600 Comunque abbia sa La decima volta che facciamo sto video Perché è vero Perché è vero Si blocca il tele Si blocca No perché Sario Visto che è Tirkio Non ha voglia di comprare un nuovo telefono E tu E tu non è vero Ma schifo Sì Sì Ma è me E il braccio Che io non lo voglio dire Infatti Tu ti prendi Sì Sincero bambino Ragazzi dai su Facciamo un subito Che da adesso Andiamo a guardare E si riporta E si riporta Allora Tu puoi chiede Non metti così tempo Ti cambierei Di cambiere Di cambiere Il nome Eh Non due cose Attento che mi dico Ah sì veramente No era gratis Era gratis Se mi dico La tua voce Sì Ma no Non l'ho mai cambiato Il nome Io non mi cambiavo il nome Che mi chiamava Il mio tagliate Non va bene Non so se è così bene così E usciranno Video di Stefanik E Sario No ma non mi sentate La terza volta di fila Che sanno perde E' Questa volta A forza A forza A forza A forza A forza E il cecom Aveva A forza A forza Perché no A forza A forza E' Pocagi Poco Poco Stefani Ragazzi Ha vinto Stefani Stefani Fai Ci vediamo Alla prossima Forti Per 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 Mi parlo mai Sto Video Eccoci Mexico Paule No è Qua Calma Il pugno Facciarlo Marrone questa testa gigante e fermati però io di solito non parlo perché mangio ma lo mangi sempre ragazzi io mangiavo una canna ma perché che ti fai qua in antartica? ho sentito uno scrocchio di ossi ma io ti sento colpa di Sario ragazzi 600 iscritti di Sario e di questo suo nome siamo, siamo, siamo ragazzi di uno che ti sai un nome, si chiama, è diverso no, come? no, come? no, come? no, come si chiama lui? lui ce ne fa un servizio ma tu chi sei? c'è un fallito oddio, è un fallito oh, era davvero l'inferno l'inferno, c'è l'inferno ehi, scopione l'inferno aiuto no, no, no ma lui si sta tagliando con l'asciutto ma l'inferno è vero? ma l'inferno mi fai cadere, non lo so per favore mi interessa ma io con l'asciutto ma come non l'hai eliminato? ma come siamo attenzionati? che senti? mi rifiuti mi rifiuti ehi ma qui benissimo facendo il record senti? 70 minuti così qua adesso il culore è un'ora eh ehi stavuscavi morito è rosa sposta un po' davanti uoooh mamma yeti ho portato su stai rosa sposta un po' davanti siiii 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 sempre in mezzo su tu alchio ma sigma allora, continui a rilassare lui in mezzo non lo faccio solo perchè andava in l'iservo Ammetto che sono forte E vabbè Cos'è Viala Non è vero Gli scotti No vabbè Io non masco Io non masco Io non E si inventa E va bene E va bene E va bene Andiamo alla prossima Eccoci Ragazzi questo qua L'ultimo round Poi ci vediamo al prossimo video Che sarà fatto da me Ragazzi avrò 70 iscritti Già c'è il genere sopra Ti avrò Infatti 70 mesi Ragazzi Raggiungere Più a di fine anni Possibile Che è finito l'anno Quasi 35 giorni Ragazzi si può fare Devo carichersi Tanto mi ragionno No soffrono Che sto fanno Ma addio no No Ok A me Solo che devo la registrazione Ti andrò sotto lo spazio Per i miei Oh my god Come sono volato Non è quelli che mi scende Quelli che mi viva da dietro Che ci riesce le tucce No 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 Ok Ok sono stato calmo quando devi ridevi di me sapevo che c'era bello fatto a posto mio è il verso godo ragazzi ultima partita cioè perché lui mi fa pena tu sei una pelle vai 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 oh no rosa ho fatto anche oh no se c'è il gioco godo no è impossibile no secondo me no 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 mamma mia il video finisce in bellezza sempre venico io ragazzi il discorso sono io comunque vediamo che siamo rossi soltanto col fan eccetera che capito rosa cosa hai da dire credete nei vostri sogni e beh noi ci vediamo il prossimo video ciao 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 ciao